Voi ragazzi e ragazze che mi seguono volete un gioco per il Nintendo di una pulciosità assurda che vi farà salire il diabete in 5 secondi del ben 99% firmata a petizione qua sotto slime ranger per il nintendo switch bisogna essere 1.500 siamo già 6.009 firmata a petizione avrete slime ranger per il nintendo switch ciao ragazzi se volete iscrivetevi ai canali youtube tiktok twitch dei miei fratelli e alcuni miei amici è tutto qui sotto in descrizione volete minecraft però è quella licenza quello la mod mia è qui sotto se lo volete volete l'x ray di minecraft è qui sotto questa funzione dalla 1.2 alla 1.16.100 lo so che siamo alla 201 adesso ma non mi interessa poi volete iscrivetevi qui sotto in descrizione volete garris mod per windows 10 qui sotto mamma mia e poi se volete entrare in mio discord sotto in descrizione ho scritto i dati di scadenza avvicino a tutti i link di discord così potete entrare poi in fondo vedete che c'è scritto musica con niente sotto perché li metterò la musica solo nei video dove c'è ciao ciao ciao